Andiamo a visitare oggi la sala storica all'interno della caserma Berghins di Udine, che è sede del Genio Guastatori. Una sala storica realizzata con tanto amore poi anche dai militari, con tante ricerche, che serve a che cosa allora? Questo è più che altro un luogo dove si custodisce memoria, tradizione e sacrificio di tante persone che hanno donato tutto ciò che avevano per i loro ideali, per la costruzione di un paese migliore, questo è alla base. Un qualcosa che arricchisce sicuramente i ragazzi che quotidianamente vengono in visita alla struttura e che permette di conoscere in maniera forse un pochino diversa e più approfondita rispetto alla solita tradizione scolastica, perché toccano con mano dei cimeli, degli anedoti, delle storie particolari di persone che appunto per amor della patria hanno donato tutto ciò che avevano. Lei ci dice che questa sala storica è aperta a chi ne facesse richiesta, insomma per una visita? Assolutamente sì, è gratuito, unica accorgimento, essendo all'interno di una struttura militare bisogna concordare semplicemente le date della visita. Le visite vengono tutte seguite e guidate, illustrate da personale appositamente dedicato alla sala museale. Tra l'altro la sala museale dal 24 giugno 2014 è stata inserita nel circuito delle collezioni musee della provincia di Udine, con riconoscimento proprio della provincia. Allora cerchiamo di farlo in maniera migliore nei tempi che abbiamo, una visita anche noi a favore dei nostri telespettatori a questo punto. Perfetto, sicuramente. La sala inizia con questo atrio, è stata costruita interamente con mezzi materiali diciamo propri e con sacrifici da parte sia di ex redici che di personale specificatamente addestratto del reggimento. Io leggo qui, nessuno dei guastatori fu primo perché nessuno fu secondo, cos'è una frase? È qualcosa che sta un po' a identificare lo spirito dei guastatori, essendo sempre in prima linea, quindi primi negli assalti e ultimi nelle ritirate perché devono mantenere comunque ed essendo distaccati ad altre unità diciamo numericamente più importanti, ovviamente i guastatori erano tutti schierati per primi. Questa è la prima sala, mi pare l'altra. Qua è la sala delle decorazioni perché qui sono esposti i nominativi di 204 guastatori di ogni ordine e grado insigniti di alte decorazioni al valore militare. Ci riferiamo principalmente alla seconda guerra mondiale, per cui anche in qualcuna le croci nere che si vedono sono le croci di ferro di seconda classe tedesche conquistate durante i combattimenti di Tubruc e della Lamene. Allora, il genio guastatori nasce però nel 1860 con la presa di Perugia e qui vediamo appunto, vero? Quella è la prima azione diciamo particolare, in realtà l'atto costitutivo dei guastatori è del 21 gennaio 1793, ma il termine guastatori è molto più antico perché si trovano delle tracce nei praticamente Fabri, Fossores e Giulio Cesare praticamente erano quelli che preparavano l'accampamento romano, lo fortificavano e distruggevano le fortificazioni del nemico. Quindi guastatori arriva da questo significato? Sì, nel tempo, nella storia troviamo delle tracce, per esempio il termine guastatore se nella Gerusalemme liberata del Torquato Tasso, però ci dobbiamo avvicinare alla prima guerra mondiale per trovare proprio tecnicamente i primi guastatori inquadrati anche nelle compagnie della morte che erano gli arditi principalmente. Vediamo che è molto curata appunto queste sale che poi si espandono che andremo appunto a vederle, allora si entra nella prima sala dove c'è la nascita dei guastatori, il 21 gennaio 1793 con un atto costitutivo di sua maestà a Redi Sardegna, Vittorio Amedeo, fu determinata la nascita di questa specialità che dava in maniera molto certosina anche come devono essere equipaggiati, il tipo di addastramento fisicamente come devono essere, ma in realtà le nostre origini più salde, più consistenti sono con i guastatori della seconda guerra mondiale che si coprirono di gloria e purtroppo tragicamente distrutti in gran parte durante i tragici combattimenti sia in Africa settentrionale che nella campagna di Russia. Figura cardine per i guastatori, Paolo Caccia Dominioni, perché oltre che essere una persona particolare, era un conte, un nobile, era un ingegnere, un pittore, uno scrittore, un ingegno polivalente, comandò il trentunesimo guastatori d'Africa. Lui è quello che ha permesso di conoscere la storia della specialità nei minimi dettagli, perché oltretutto finita la seconda guerra mondiale, lui è quella persona che per tredici anni è ritornato nel deserto a raccogliere le salme di tutti i caduti, progettare e costruire il Sacrario di Al-Alamen, quello che oggi svetta, ed è famoso anche per tutta una serie di altre opere realizzate in giro per il mondo. Non è d'Alpino, lui ha tenuto durante la seconda guerra mondiale il capello in omaggio di un fratello alpino caduto, lui è un vecchio combattente della prima guerra mondiale, combatte anche nella guerra sulle trincee del Carso, nelle compagnie dei Flamieri per l'esattezza, e diciamo ebbe questa particolarità. Questa vetrina centrale dedicata principalmente a Paolo Caccia Dominioni con dei cimeli della documentazione unica. Cito per esempio, questa è la copia fedele del diario da lui realizzato durante la seconda guerra mondiale, i tredici anni nel deserto, ma quest'urna che è ancora più importante, la sabbia viene da El-Alamen, il matone che c'è al centro fu realizzato impastando con acqua del fiume Piave sabbia, ghiaia, pietra proveniente da 45 località in cui hanno combattuto soldati italiani e guastatori principalmente. A fianco all'urnetta c'è una piccola lista, un elenco delle località, dove Dominioni ha raccolto la sabbia. Cito solo l'inizio e la fine. La prima nel sacrario della famiglia Dominioni, che risale all'anno 1000, custodivano un'urnetta con la terra raccolta nella disfida di Barletta del 1503. L'ultima cucchiaiata è stata raccolta alle fosse radiattine, e quindi ci si può rendere conto dell'importanza del materiale di quest'urna. E qui abbiamo tutta una serie di altri cimili, uno più importante dell'altro. La bandiera da combattimento del 31esimo, che il cappellano militare padre Luciano Usai usava per avvolgere i caduti che recuperava dal fronte. Il labaro da combattimento, che ha sventolato a Tobruc e dell'Alamen, utilizzato da Paolo Caccia Dominioni, è un'antica bandiera del Quinto Adamello, e l'asta che lo sostiene non è un'asta di legno qualunque, è un'asta di legno di robinio conquistato nei combattimenti sulle trincee delle frasche nella Prima Guerra Mondiale. La seconda sala vediamo una serie di reperti. E abbiamo qualche piccolo cimilio della Prima Guerra Mondiale. Qui particolarmente importante sono alcuni elmeti, che sono dei modelli particolari di elmetto Adrian, perché furono quelli realizzati e dedicati proprio per la terza armata italiana, quella che è Sepoltare di Puglia. E qui abbiamo una lapide Gavotti. Gavotti fu l'ingegnere del genio che progettò, costruì le difese, principalmente sull'Alamen, che permisero di salvare tantissime vite di soldati italiani, ma soprattutto di respingere gli attacchi austro-ungarici. Questa è rarissima, in quanto riporta il nome Gavotti e le centurie, che erano i nuclei degli operai civili inquadrati nei reparti militari, che partecipavano ai lavori. Molto, quindi, una qualcosa di... Perché voi ve l'hanno dati tutti i parenti, magari... I cimili vengono sia da appassionati collezionisti, reduci, ed noi li censiamo, li cataloghiamo, li segnaliamo. Qua questa sala è tutto regolarmente gestito e inventariato, oltretutto, e tutte le stanze hanno una videosorveglianza, le portano il sistema d'allarme anti-intrusione. Questa sala è dedicata al trentesimo guastatori di Russia, e qui abbiamo fotografie, i giornali dell'epoca e le foto della Russia proprio, perché il trentesimo, dall'inizio come guastatori alpini, fu assegnato al corpo d'armata alpino in Russia e ne ha seguito le tragiche sorti. Praticamente dopo Nikolaevka e Rossov, quando ci fu lo sfondamento, il Grosso, attestandosi per rallentare l'offensiva russa, purtroppo si sacrificò. C'è una frase bellissima. Dopo i combattimenti di Nikolaevka, un corrispondente di guerra, un certo Cesco Tomaselli, che era uno dei superstiti del disastro del nobile, dirigibile nobile, quel giorno mandò una piccola notizia in Italia, il fatto che i nostri avevano rispinto l'offensiva russa, e scrisse a Nikolaevka i guastatori del trentesimo hanno aperto i cancelli dell'eternità, pagandolo a caro prezzo, perché su 485 uomini 172 sono rientrati. Questa è stata una pagina appunto della storia abbastanza tragica, che se poi si ricorda adesso ancora al Tempio di Carniaco con la messa. Il trentaduesimo questo lato invece, il trentaduesimo è il reparto che ha avuto il maggior numero di perdite, ma è quello che è riuscito a conquistare Tobruco, pagandolo con un sacrificio immenso, quasi totale del reparto, perché dopo i combattimenti di Tobruco e le prime offensive sulla linea dell'Alamen, di 500 uomini sono rientrati 18. C'è una cosa particolarissima, Paolo Cacciadominioni, colpito dal sacrificio di Emilio Caizzo, il guastatore che, sacrificandosi, facendosi esplodere con le cariche, permettendo di accedere ai fortini di Tobruco, realizzò il 16 maggio 1941 questo bozzetto su carta quadratata, intitolando l'ultimo balzo del guastatore Emilio Caizzo, trentaduesimo battaglione Tobruco. Non contento, realizzò poi il secondo a colori, che non lo soddisfeccia pieno, per cui realizzò nel 76 l'ultimo, questo è uno dei rari casi in Guicelli, idea fissata, la prima per perfezionamento dell'opera e poi la definitiva. Il trentaduesimo ha il maggior numero di decorati di croci di ferro dai tedeschi, per esempio, proprio per gli atti eroici che durante la prima fase di guerra in Africa settentrionale compirono. Tra l'altro il nostro reparto è erede dell'870esimo nucleo guastatori che combatté nella guerra di liberazione, per cui abbiamo l'attestato di riconoscimento per aver partecipato alla guerra di liberazione nel territorio nazionale. Qui abbiamo un'altra sala dedicata prima e seconda, con un po' di cimeli particolari, dopodiché abbiamo i vari attestati riconoscimenti per le operazioni di pubblica calamità, perché come reparto genio interveniamo chiaramente nelle varie disgrazie che purtroppo colpiscono il paese. Quindi parliamo Vajont, Polesine, Sismapillus 76, Campione Basilicata, le ultime emergenza neve e esondazione. Qua sono attestati per operazioni all'estero, quindi parliamo Afghanistan, Iraq, Libano. In questa sala c'è la sala dei comandanti, perché ci sono le foto dei comandanti da dopo la guerra praticamente, e al centro c'è una piccola vetrina con l'attività specialistica dei guastatori, mine e campi minati. Ovviamente avendo addiritto al Trattato di Ottagua sono state eliminate tutte le mine anti-uomo, ci sono solo mine anti-carro, è stato sostituito con materiale fotografico. Quindi è anche nell'ex-Micoslavia che voi siete stati presenti? Sì, 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 nuclei nostri e siamo stati nel 1995 all'apertura proprio della missione, proprio per garantire al personale che era stato inviato nel teatro una certa sicurezza nei movimenti, nelle operazioni, proprio perché è un territorio ad alta densità di mine anche lì. Qui abbiamo altri cimieli particolari, materiali d'armamento, ma ci avviciniamo a quello che è diventato un po' il cuore della sala museale, che è l'ultima creazione. Praticamente è stato riprodotto un tratto di zona di combattimento con un posto comando e una trincea realizzato a confine praticamente sul territorio nazionale a ridosso delle truppe austro-ungariche. Questo diorama interattivo, la trincea realizzata grazie alla fondazione Krupp, l'aiuto, ci offre una luce scarsa effettivamente, come vediamo, però lo facciamo così, perché almeno cerchiamo di essere effettivamente... Qui abbiamo, esatto, è stato ricostruito tutto con materiale per la maggior parte originale dell'epoca, è stato tutto messo in sicurezza, cementato. Abbiamo un posto d'osservazione protetto dalla lamina d'acciaio dove c'è la proiezione di un filmato che rappresenta proprio un assalto, quindi è un filmato in HD che serve a dare l'idea dal punto d'osservazione di quello che si vedeva, la visuale dell'assalto. Come fosse in trincea. Esatto, esatto. In sottofondo si sente praticamente una voce e un soldato che legge una lettera che ha inviato a casa. Abbiamo i colpi, qui abbiamo il posto praticamente dalla zona da combattimento, il fronte tra le due trincee e qui abbiamo quindi la ricostruzione con i reticolati, cavalli di Frisia, vari colpi d'arma da fuoco, esplosioni. Abbiamo, c'è un'altra cercato di far immedesimare il visitatore in quello che era l'ambiente tragico, cupo, estremamente duro, dei nostri soldati durante la prima guerra mondiale. Questo come? Tramite una luce abbastanza soffusa, un ambiente completamente ricostruito per quanto possibile, dei colpi che proprio danno l'idea continua e le proiezioni di fumo e soprattutto di movimento di materiali come ci sarà sotto un'esplosione delle rapiche in Italia. Il fischio, ecco, c'erano questi fischi, questi erano veri. Esatto, esatto. E ci sarà poi la proiezione, il movimento di parte del reticolato sotto gli effetti di un'esplosione. Qua abbiamo anche l'eco dei colpi che esplodevano. Ovviamente ricostruito. Ovviamente tutto ricostruito. Qui abbiamo, tra l'altro, ricostruito un piccolo deposito munizioni con delle bombarde della prima guerra mondiale. Naturalmente tutto ciò che è esposto e costruito in sale è perfettamente disattivato. Però questo c'era, era così. Questo era così, sono originali. Queste sono tutte materiali originali. Da quest'altro lato abbiamo un posto comando del comandante di compagnia, che chiaramente è molto spartano, angusto, ma con materiali come erano quelli dell'epoca. Quindi ci sono le piccole accorgimenti utilizzate al fronte. Questa è una bomba a mano italiana, un modello SIPE, spaccata, dove veniva messo il mozzicone della candela che veniva acceso per fare la luce. Questi sono i teatri di guerra? Sì, queste sono tutte delle mappe della zona di... alcune sono predabelliche, anche la sciabola, per esempio una sciabola austriaca, da cavalleria. E qua è la realizzazione realistica proprio di quello che era. Ecco, guardi, guardi adesso. E poi, per rendere ancora più realistico tutto, abbiamo ricostruito anche un piccolo posto di medicazione d'emergenza, di prima emergenza, con un manichino che rappresenta un ferito. Questo si muove, respira, si lamenta e, come si può vedere, è estremamente una realizzazione abbastanza cruda, realistica però. Qui è un posto solo, ma magari poteva essere anche un po' più ampio. Esatto, esatto. Diciamo che lo spazio comunque impone determinate restrizioni, quindi per dare l'idea questo è. Qui presente anche nella Lega italiana per la difesa dei diritti dell'uomo, ecco, diritti dell'uomo che qui vengono evidenziati nel senso che qui si parla di guerra, però si parla di interventi proprio durante la prima o seconda guerra mondiale. Sì, è molto significativo per noi essere presenti in questa manifestazione e con il nostro collega dottor Antonello Quattrocchi, che fa parte anche del Comitato nazionale, abbiamo voluto essere presenti e soprattutto col pensiero, con il sentimento, con l'anima, perché siamo molto vicini a questi momenti. La Lega italiana dei diritti dell'uomo condivide insieme anche al Club UNESCO questi principi per la salvaguardia dell'uomo, dei suoi diritti e soprattutto attraverso queste manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica, soprattutto dei giovani. Qui guardiamo appunto questi cimeli, questi ricordi, perché con i diritti dell'uomo bisogna anche ricordare quello che l'uomo ha fatto anche nella sua storia, no direi? Qui il museo del Terzo Regimento Eugenio Guastatore di Udine racchiude un patrimonio storico incommensurabile. Come Lega italiana dei diritti dell'uomo noi siamo molto sensibili agli aspetti anche museali perché è un patrimonio che deve rimanere a ricordo e a sostegno e alla conoscenza per le nuove generazioni. Nello stesso momento il valore aggiunto che viene proposto da questa sala museale, oltre al valore storico umano espresso da Paolo Caccia Dominioni, è il ricordo, il sangue dei caduti, il valore dei caduti italiani in vari teatri di guerra che deve rimanere per tutta la cittadinanza udinese del Periuli Venezia Giulia e per tutta l'Italia. Eugenio Guastatore dunque, ma non solo mi pare, c'è anche la Croce Rossa italiana. La Croce Rossa italiana, soprattutto il corpo militare con il terzo Eugenio Guastatore, opera su tutto il territorio nazionale in Periuli Venezia Giulia. Adesso stiamo provvedendo come Napro facendo parte del quinto centro di mobilitazione della Croce Rossa italiana, specialità del corpo militare italiano, con sede principale a Verona, il quinto centro si denomina. Stiamo effettuando delle operazioni assieme alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, la Croce Rossa militare italiana e il terzo Eugenio Guastatore in opere di bonifica e di sminamento del territorio regionale. Sono state trovate migliaia e migliaia di bombe inesplose, derivanti soprattutto dalla parte finale del secondo conflitto mondiale, lasciate dagli inglesi e dagli americani, lanciate soprattutto anche nell'edizione dei quadribium della provincia di Port Venone. È un'operazione che è in corso, con la massima competenza e serietà espressa sia dalle forze dell'ordine che dal corpo militare della Croce Rossa italiana. Però in questo periodo si celebrano i cento anni, l'inizio della Grande Guerra. Anche voi siete coinvolti in qualche maniera. Sì, noi siamo anche coinvolti, sosteniamo le operazioni anche di ricordo con la sua arma. Ci sarà la grande manifestazione del 2 giugno, ma durerà tutto quanto fino al 1918, termine della guerra in Italia, ma nello stesso momento noi abbiamo iniziato anche a sostenere le iniziative delle varie componenti dell'esercito nella ristrutturazione e nella riscoperta anche di siti che si riperiscono alla prima guerra mondiale.